Sempre qui nella medina di Cairo One troviamo la casa del governatore adibita al museo dei tappeti. Entriamo a vedere. Allora adesso siamo qui con Faisal Alani che ci illustrerà la casa museo. Alla buongiorno, questa città si chiama Cairo One, Cairo One è la quarta città santa dell'Islam e famosa anche questa città per la proiezione dei tappeti. Allora questa casa era una casa d'abitazioni ma dopo 1956 è diventata una casa per la vendita dei tappeti. In questa casa ci sono 17 stanze a vedere, le vecchie case sono molto grandi perché una volta vivono due o tre famiglie insieme. E questa sala era la sala d'orchestra, la sala estiva. Qui c'è la sala estiva e c'è anche la sala invernale. E nel patio ci sono stanze per una volta anche a quattro moli. Un musulmano può avere fino a quattro moli, allora deve essere grande la casa. E adesso una casa per la vendita dei tappeti, i tunisini, i tunisini qui sono obbligati a comprare i tappeti di Cairo One perché la sposa deve regalare al marito tre tappeti così fa parte del corredo. I tappeti che arrivano dalla città santa? Sì, Cairo One è famosa. I figuri sono fatti a mano e durano due o tre generazioni perché negli casi antichi ci sono ancora tappeti della bisnona. Ok, allora adesso andiamo a vedere, facciamo un giro su questa abitazione e vedremo anche il laboratorio dove lavorano a mano i tappeti. Certo, certo. Andiamo a vedere, prego. Questa è la sala invernale, qui il soffitto è più basso, così mantieni più il caldo per l'inverno. E tutti i soffitti sono di gesso e anche legno. E la bellezza della casa araba è sempre all'interno, così per evitare l'invidia. La bellezza è sempre nascosta. E quando ci sono finestre che aprono fuori, sono sempre alti, così nessuno vede cosa c'è dentro. Per l'invidia, per l'occhio anche. Allora qua è il cortile interno della casa, di solito il cortile è scoperto. Però in questa casa ci sono due, uno è aperto e qui è coperto perché ci sono le quattro istanze da letto. Ogni moglie ha la propria stanza. Ma quando uno ha più di una moglie, il marito deve trattare a tutti uguali, se non c'è preferito. Perché qua siamo in terra santa, terra islamica. Se un musulmano può avere fino a quattro mogli, non è obbligatorio, ma a quelli che vogliono sposare più donne, non più di quattro insieme. E lui deve trattare insieme. Già una è anche abbastanza una moglie, certe volte, scusate per i sposati. Ma da noi mangiano il couscous, non i panini, i spaghetti. Sì, sì, sì. Quei couscous, il marito è sempre in gamba. Perfetto, perfetto. Prego. Adesso sento già dei rumori sottofondo di laboratorio. Andiamo a vedere le lavorazioni. Qui ci sono tre diversi tipi di tappeti. Il primo tipo è anudato. Questo è un tappeto anudato. In questo tappeto ci sono 40.000 nodi in un metro quadrato, perché i numeri di nodi variano da 10.000 a 250.000 nodi. Solo i tappeti che hanno 250.000 sono tappeti di seta naturali, mentre gli altri sono di lana di pecora. E per il tappeto di 40.000 nodi ci vogliono due settimane per fare un metro quadrato. Due settimane per fare un metro quadrato. E più nodi ci sono, più è pregiato il tappeto. Questo il tappeto anudato. E c'è ancora il kilim. Il kilim è solo tessuto. Le nomadi e i biduini fanno il kilim. Il kilim è solo tessuto. Mentre il mergum, il mergum, il blu si chiama il mergum. Quello lì. E quasi tutte le donne di Cairoa devono imparare a fare tappeti, perché la sposa deve fare tre tappeti per il marito, così per dimostrare alla famiglia del marito che è brava, che sa lavorare. E quando si sposa per aiutare il marito fanno tappeti. E le donne imparano dai ragazzi a fare tappeti. Guardando la mamma fanno sempre simili. Allora i rumori di queste forbici, delle lavorazioni dei tappeti, li avevo visti anche a Samarcanda. Molto molto interessante. Però qui, a differenza di Samarcanda, le donne lavorano proprio tutto con la mente. Non hanno un progetto, non hanno un disegno. E quindi devono lavorare di loro fantasia, di loro mente. È una cosa molto molto particolare e molto difficile da mantenere.